Apri la bocca un po' di più e di sempre! Sì, maestate! Sì, maestate! E ora? La regina domanda, Alice. Sai giocare a crocchè? Ma sì, maestate! Allora, via l'inizio di gioco! Manca quel piano di buche! Ai posti posti! Ai posti posti per non finire per me! E si usano le carte come porte! Gli estrici, come palle! E si ricorda di come massa! Chi è gioco? E' subito una gran confusione di giocatori che urlano e giocano all'unisono. Spesso le carte si devono assentare e per decapitare chiunque capiti e attirano la regina. Non lo capito! Che un esulta insia la morte! Chi è gioco! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.